E ora dedichiamo questa intervista ad una ex di uomini e donne ossia Valentina Autiero, che ovviamente non fa più parte del trono over di Maria dei Filippi. La stessa dama del trono over, Valentina Autiero che già in una recente intervista aveva dichiarato che insomma non era soddisfatta di come era uscita dal programma, ha rilasciato questa dichiarazione all'emittente RTL 102.5, dove ha detto chiaro e tondo che Dichiara Valentina Autiero sul programma Uomini e donne Valentina Dallari si è sentita male ed è andata in ospedale Un po' mi manca, d'altronde dopo sei anni Sicuramente c'è stato uno stacco molto importante, mi manca relazionarmi con il genere maschile Quindi sì, tornerei se ci fosse, però nel parter qualcuno che mi piace Insomma ha fatto chiaramente comprendere di non escludere un ritorno nel programma che di fatto l'ha lanciata Ma a quanto pare il motivo principale per cui non ritorna è uno solo Ossia al momento non c'è nessuno che veramente le interesse Diciamo che le manca più che altro l'atmosfera che si era creata all'interno del programma Le sue amiche, le chiacchiere, le conoscenze, insomma l'ambiente della trasmissione per dirlo con una parola solamente Attualmente la donna lavora e sembra che però la giornata anche a causa delle restrizioni del covid sia un po' monotona Infatti dice la stessa che Lavoro in uno studio dentistico, torno a casa e poi finisce la mia giornata Beh non disperiamo, magari alla fine deciderà di farci una bella sorpresa che che ne dite Grazie a tutti